Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 8 km di coda per un incidente avvenuto al km 307 tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello in direzione Roma. Code per il traffico intenso, un'uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Si segnala ancora la chiusura di una corsia per un incidente avvenuto sulla statale 1 Aurelia circa 6 km prima di Santa Maria di Rispescia in direzione nord. Ancora in direzione nord chiusura di una corsia per lavori tra Alberese e Santa Maria di Rispescia. Sempre per le statali sulla 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per lavori tra Scopeti e Sandetole in entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!